Lunga intervista di Matteo Salvini a Carta Bianca, nella puntata di martedì 14 settembre. Il segretario della Lega è intervenuto in collegamento e ha risposto alle domande da studio di Bianca Berlinguer e di Paolo Mieli, ha anche lui ospite ma in studio. Il tema principale è stato quello del reddito di cittadinanza, se dobbiamo risparmiare, facciamolo sul reddito di cittadinanza e lasciandolo a chi non può lavorare. Ma la verità che emerge ogni giorno è che ci sono migliaia di persone che prendono il sussidio per non fare nulla dal mattino alla sera ha commentato. Teniamo quota 100 e se dobbiamo risparmiare andiamo a tagliare sul reddito di cittadinanza, visto che il mantenimento della prima costa 400 milioni, del secondo 8 miliardi. Salvini ha poi proseguito, nell'anno del covid non si possono rubare 5 anni di vita ai lavoratori innalzando l'età pensionabile. Il rinnovo di quota 100 costerebbe 400 milioni ha ribadito. Teniamolo per garantire il diritto alla pensione. Il discorso si è poi spostato sul green pass ai lavoratori. Quali lavoratori si è chiesto Salvini? Con quali mansioni? A contatto con il pubblico? Chiusi negli uffici? Perché ovviamente bisogna tutelare la salute, ma non bisogna arrivare a degli assurdi. Ci sono mamme che hanno i bimbi che vanno agli asili nido e alla scuola materna e non puoi entrare a ritirarli o andarli ad accompagnare in classe se non hai il green pass. Infine sull'obbligo vaccinale, il vaccino è sacrosanto, non imposto ma suggerito. Offriamo la possibilità a tutti di vaccinarsi, ma ci sono alcuni milioni di italiani che per scelta, impossibilità o dubbio non hanno percorso questa strada. Io non li vado a prendere casa per casa ha detto il segretario della Lega. I NOVAX sono come i NOTAV, i NOTAP, quelli che dicono no con la violenza non fanno parte del dibattito democratico. I NOVAX sono come i NOTAV, i NOTAV, i NOTAV, i NOTAV, i NOTAV I NOVAX.